Domenica di lavoro sul Gran Sasso per il 118 e per il soccorso alpino dell'Aquila. Nel primo caso una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata, grazie al casco e agli altri dispositivi di sicurezza per la moto che il motociclista romano di 22 anni indossava. Uno schianto pauroso sulla strada che da Fonte Cerreto porta a Campo Imperatore. Il giovane è stato recuperato dall'elisoccorso del 118 perché le sue condizioni sono apparse subito grave ai sanitari. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con prognosi riservata. Fratture ad entrambi i polsi, escoriazioni e traumi moltipli. Assieme ad altri motociclisti il giovane romano stava percorrendo la strada tra Monte Cristo e la Fossa di Paganica in direzione Campo Imperatore. Dopo una curva, per cause ancora da accertare, la moto ha impattato contro una vettura guidata da una donna rimasta illesa che procedeva nel senso opposto. Il motociclista è sbalzato dalla moto ed è rotolato per diversi metri sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sempre ieri pomeriggio, inoltre, il soccorso alpino dell'Aquila è stato impegnato nel recupero di un alpinista infortunato sul paretone del Gran Sasso assieme ad un compagno di Cordata. Sono stati loro stessi col cellulare ad allertare i soccorsi. La causa dell'incidente, il distacco di un masso che ha colpito il piede di uno dei due escursionisti che si trovavano a 2850 metri di altezza. Recuperati con il verricello dal soccorso alpino, sono stati portati in elicottero a Prati di Tivo e trasportati poi in ospedale. L'uomo ferito è un 33enne di Loreto Aprutino, il suo compagno illeso è di penne. Grazie 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 Grazie